Marco, guarda cosa c'è su Perlana, una nuova mariottina per giocare con te. Benvenuta mariottina mia, adesso siamo in tre. Le mariottine, tante, allegre e colorate, si trovano solo con Perlana polvere e su Perlana liquido. A passaparola. A me piace la mariottina e la cipolla, perché sembra la onda quando si arrabbia. Ecco le nuove mariottina, la frutta e verdura di Perlana. E per la fattoria, la cartolina è sul flacone da mezzo litro o nel pacchetto. Passaparola.